Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. What are you doing? Nati? Si? Ma va va va. Oh, che hai aspettato? Cosa ho? Oh, ci sfocchi di botte! Raga, ma non con dieci secondi. Sabato, dobbiamo andare. Dieci, dieci, nove, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, uno, eeeeeee! Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Mr. Mario e oggi è Capodanno. Oggi volevo farvi vedere tutti i migliori momenti del mio canale. Buona visione. Ci siamo qui insieme a Luca. Aspetta, ci sono delle ringhiere rotte. Non puoi toccarle. Cinque messaggi usl. Nooo! Oh. Mammut. Si. Oh, oh, oh. Ti prendo a schiaffi, eh. Ma cosa fai? C'è una bambina nelle foglie. Delle pareti. Un buco. Corsi. Cos'è? Ma perché c'è una bimba che si guarda l'offetto? Aspetta. Aspetta. Oddio. Aspetta, lo tolgo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Oddio. E comparse davanti. No, 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 no. Ragazzi. Platino 3. Ormai Castagna 12 è vecchio, quindi direi di cambiarlo. E il nome di quest'anno sarà... Blen, 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 blen. Ho trovato uno che si chiama Peppino. Cosa? Zolto tutto tutto. Ha vinto. Cioè, ha perso. Zolto, c'è un mondo. Sì. Questa è una mod presentata a Natale molto famosa della New Wear che... veramente sono dei... sono bureau specidi persone. Sì, iniziamo con il primo livello Cos'è quella roba? Ok, abbiamo Dai, vieni qua Oddio Madonna, che skill Sono usciti i toti Anche qui, fortunatamente, non siamo esclose Che cosa è successo, che cosa è assolutamente Oggi è una domanda di aprirci Questi pacchetti Se ci va bene, non ci esplode il telefono Se ci va male, moriamo Ma, ma che Ci è andato male Non è che ho un capperotto Oh, 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 quanta roba hanno messo Ma, cioè, cosa metti al posto delle riservo e le fabbriche? Oh sì Sì, no Dai, mandiamo il troncozzo, abbiamo vinto, ragazzi Abbiamo vinto Cioè, eccezionale Dai Tutto sommato, è stata una bella partita Siamo andati anche sull'altra tour What the fuck? Tante, 500 like Spera che non ci fanno iscritti Non ho più niente per cui da barri Iscritti ricambi Ma come fate e finto Vengo a dormire casa tua Ma 022 se lo facciamo andare in loop e ci mettiamo sotto what is logo abbiamo un nuovo video What is love? Baby don't hurt me, don't hurt me, no more Cioè, guardate questo Secondo voi, questo è normale? Io sono Mr. Manager e siamo qui con lui Facciamo un sacco di danni Ma cos'è sta roba? Un coso di nuovo Se ti esce Larry Jr. come boss è meglio Perché praticamente lui girontola a casa e non piantare Ma cosa vuol dire? No, è uscito proprio il peggiore Tipo faccia le troll bomb e... Ma veramente sono dei troll Oh, come mai si è trasformati in una bomba? Ma che c***o, si sono trasformati in delle bombe? Oh, cosa? Qua non c'è niente Forse c'è una stanza segreta Prova a metterla una bomba lì Prova a metterla Qua, qua sicuro, qui Qui, qui Qui, qui Per forza Allora Hai molta fortuna Aspetta, allora è di qua No, lascia perdere Sì Vedi che avevo letto crani Non c'è un c***o Nell'ultima episodio avevamo scelto gli starter ed eravamo arrivati fino a questo Percorso 102 Percorso 102 Questa è una palestra di Gallipoli Oh, adesso vi Hai portato la tua squadra in Paganà Da notare la scritta in alta definizione di sopra in giapponese Come lo chiamo? Teresino? Poi con che faccia fiera? Tereso Zg Me, fa un maschio Che io Che io prima No, come fallisce Xteres08 Femmina maschio Sono diventata K Palesca per mettere in pratica Oh mio Dio, fermate Lo sta uccidendo tutti Adesso Rotta De riuscire finalmente a dicere qualcosa Non è possibile Sì, vabbè Toglimi 35 di vita Sì, vabbè No Non posso sbagliare Dai Oh, di nuovo la No No No, vabbè No, no Come è possibile No Va bene Eh, riporti Vabbè, ok Ok, basta Oh, mi sta andando bene Strano Allora ti faccio vedere Ne prendi quattro Uno, due, tre, quattro E poi ne metti due dietro Non c'è niente Allora uno, due, tre, quattro Poi uno e due Hai sentito qualcosa Tipo di riusci No, dai Ruvido Ruvido Muoviti, muoviti Apri il pacchetto Muoviti E l'ultima è? No, aspetta L'ultima è? No, non è l'ultima Vai, vai, vai Wow Ibis Full art ragazzi Oddio ti ho sputato Facciamo il trick Uno, due, tre, quattro Sì Pozione Ultima chance Tyranitar E poi abbiamo Banetto Banetto No Non può essere No, non banetto GX Perché ce l'ho già No, due Questa è la moneta di Terranitar ragazzi Ma Io te la rimetto qua dentro Per sicurezza Sennò Si rovina Oddio L'errore di stampa No raga Croco Croco Ti serviva Attenzione Ragazzi Guardate incontro Qual è il pokemon Che ti assomiglia Se io Vabbè ok C'era sì Aspetta YouTube Entra nel mondo Del pokemon Go Cosa Per cercare Catturare Il pupazzo Che si Nel cartone Dei pokemon Quale tra questi luoghi Ti è piaciuto Io non lo guardo La grotta celeste Vabbè Vabbè la grotta celeste Perché c'è il mio to Mio to Vabbè carta forbice Sassu Carta Stare all'aperto qua All'aperto All'aperto Quando nevicando Rainy No No Ma per l'altro Perché non lo traduce Quando si tratta Di mangiare verdure Sì Cosa Ok Cosa fai Quando la sveglia Si spegne La mattina Per quale professore Di pokemon Vorresti più Stagista Una cosa Professor Beach Ci metterò Altri due mesi A montare questo video Tipo quello Che pokemon sei Che vi lascio in iscrizione Naturalmente Mettetelo anche Youtuber italiano preferito Rattolix Oh 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 Ti do un consiglio Che Mr. Mareciano Oh E' rifiutissimo Mr. Mareciano Squadra Di calcio Che ti fate Minus Oh però devo rispondere Più a io eh Siete mai stati bocciati Sì Avete mai cucinato qualcosa? Devo ancora pagare i danni Pokemon che odiate? Non altra Gumshoes Il vostro amico preferito? Non ho un amico preferito Vi sfida Non usarvi i piedi L'uno all'altro Vai io accetto la sfida X Vai inizi tu perché sei più piccolo di me Oh te la faccio le Ho vinto Ciao Ciao Sto giocando a giochi Veramente pesanti Dal primo giorno Che l'ho presso Sto telefono Lo presso Per vedere le sue Abilità Dove sto Non finire Ho cambiato il telefono Ma il wifi Ancora no Ah mamma Pokemon preferito Normale Normale O leggendario Normale 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 Neanche starter Proprio normale Normale Io di un altro Per il che sono due starter Un altro Siete mai stati bocciati? No Sì Sfigato È vero Coppino 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 Saga cinematografica preferita Sbrigati Film Anima Siete fidanzati? No Non tra di voi Cioè Avete una cotta per qualcuno? No Devi dire O sì O no Sì Per chi? Non so Ero a casa di Mario e stavo registrando quindi ho dovuto metterlo in silenzioso Credo l'abbia assaporata, tocca a te Mario Soprata con i capelli Siete mai stati bocciati? No Prossima domanda Cantante preferito? Gigi D'Alessio Ciotic Ehm Eden No aspetta si chiamava così Eden Meme preferita? Midconet Spooky, scary, skeleton Che strumento suonate? Auto Tipo due anni fa ho preso un launchpad poi non so dove finire Stato dove vorreste vivere? Stati Uniti da America Corea del Nord Tre descrizioni dell'altro Ehm Alto Moro Peli Basso Alto Magro Un super potere che vorreste avere? Super velocità Super forza Ah no Ce la vedo Guardi le luci lampeggianti e prenda la mira Appena le aggancia cambieranno colore Ma dove? Cosa? Cosa? Ok super Sono troppo creepy Invece è No è tutto posto Eccola Ecco l'uscita Aspetta Dobbiamo passare da quella porta ma un'esplosione l'ha danneggiata Analisi Il meccanismo di controllo della porta è inattivo Ma è stato gravemente danneggiato Dovresti riuscire a sfondarla con il calcio dell'arma Ah Tu sto casino e poi Dovresti riuscire a sfondarla con il calcio Dovresti riuscire a sfondarla con il calcio Ma è stato un calcio Mi dice anche se è inblocato è capito che ci siamo schiantati basta vibrare smetti stavo per iniziare sono giuste le distanze oh ma non tocco ok a posto basta ma fa niente riprovate le cinque animale preferito il vostro idolo ma aspetta ma stai scluso rap cosa sta succedendo perchè state cadendo giovani sfida e basta che isolare idolo preferito no aspetta ora dobbiamo fare l'outro che oggi siamo su outlast un gioco della bandai ok non mi conosci bellissimo per aprire ok è già aperto per sollevare la wow guarda che è bellissimo guarda questo corcellino oh c'è un ascenso c'è una passata di pomodoro torniamo indietro il dottore è morto poi li appesi devi aiutarmi ah sì io ti devo aiutare tu in cambio mi uccidi mi sto spavendo è tornato il porcellino mamma mia ma se esci cosa succede oh avevi ragione avevi ragione oddio c'è un tizio con una mazza spero che tu te ne sia andato perchè se no oddio non è che al buio non mi vede no mi ha visto vabbè ma non mi starà mai seguire c'è una cosa non mi starà mai seguire dai ma che sfida sono andati in congo va bene ragazzi questo video è terminato se vi è piaciuto lasciate un like qua sotto commentate iscrivetevi e buon anno ma con chi stai parlando Oh the weather outside is frightful but the fire is so delightful and since we've no place to go let it snow let it snow let it snow